Buonasera, è un onore e un privilegio essere qui. Il mio nome è Damiano, il mio cognome è Franco. Vogliamo rendere la raccolta differenziata semplice grazie all'intelligenza artificiale. I rifiuti sono un problema, stanno devastando il nostro pianeta, ma è molto più grave di quello che si pensi. Tre giorni fa sono morte 19 persone sotto una frana di rifiuti. Il 12 marzo ne sono morte 48 sotto una frana di rifiuti. Tra questi morti ci sono molti bambini e le cose andranno peggio. La Banca Mondiale dice che in soli dieci anni la quantità di rifiuti raddoppierà, così come i costi di gestione. Non sapevo di questo problema, io sono nato in un luogo incontaminato. Ogni stagione dell'anno aveva un profumo caratteristico. Poi sono andato a vivere a Milano e adesso a Roma, dove faccio il Digital Forensic Expert. Sono tornato nella mia città natale e non c'era più lo stesso profumo. C'è solo profumo di rifiuti. Perché qualcuno ha pensato bene di metterci una discarica. Cosa fare? Protestare? No. È meglio utilizzare una tecnologia dirompente che renda obsolete le discariche. Così non ci sarà più una discarica dove sono nato, ma non ci sarà più una discarica ovunque. Abbiamo chiesto alle persone se avrebbero acquistato una tecnologia del genere. Abbiamo avuto risposte molto positive. Ma ci siamo resi conti che eravamo solo al primo step della catena del valore. Per avere un effetto dirompente bisogna agire su tutta la catena del valore. E così abbiamo creato un'intelligenza artificiale. Questo dispositivo è in grado di riconoscere rifiuti e comandare un qualsiasi robot per fare la differenziata. Stiamo lavorando al business model adatto Grazie.